ed ora passiamo all'analisi invece del costo marginale ci dobbiamo porre questa domanda quanto costa produrre un'unità addizionale di prodotto in più quindi il costo marginale ecco è quello che ci dice come ci hanno insegnato i marginalisti e neoclassici di andare appunto a verificare qual è la variazione in questo caso del costo totale in seguito a una variazione della produzione qui ipotizziamo appunto un aumento del costo totale quando c'è un incremento della produzione quindi la formula in questo caso è cmg costo marginale è dato da delta che rappresenta la variazione delta ct fratto delta q quindi variazione del costo totale sulla variazione della quantità costo marginale è influenzato essenzialmente dai costi variabili perché sono i costi variabili che variano appunto al variare della quantità e non i costi fissi qual è il grafico del costo marginale ancora una volta l'andamento del costo marginale è una curva ad perché è determinato dall'andamento della produttività marginale dei fattori produttivi il significato economico del primo tratto che è appunto decrescente deriva dal fatto che l'impiego appunto di unità addizionali dei fattori produttivi consente di utilizzare meglio l'impianto e quindi abbiamo un costo marginale che è decrescente una volta però toccato il punto di minimo la curva del costo marginale diventa crescente perché in questa fase ogni ulteriore unità addizionale di impiego dei fattori produttivi andrà a peggiorare l'efficienza dell'impianto magari intasando o comunque creando dei disservizi quello che poi interessa ancora nell'analisi dei costi è mettere insieme il costo marginale col costo medio che sono i due più rappresentativi e significativi per un'analisi diciamo di scelta di livello di produzione anche per un'impresa e qui ve li ho messi insieme come vedete sono abbiamo detto curve a u però è importante capire come si posizionano la curva del costo marginale che è quella rossa è più in basso e incontra la curva del costo medio che invece è più diciamo posizionata verso l'alto nel grafico che è quella appunto in nero e l'incontro dicevo avviene in due punti intanto in un primo punto quando si produce la prima unità di prodotto per cui il costo marginale è uguale al costo medio ma questo altro è importantissimo l'altro punto di incontro è il punto di minimo della curva del costo medio quindi la curva del costo marginale incontra la curva del costo medio nel punto di minimo del costo medio poi ci sono alcuni esercizi no che potreste provare a fare appunto sul calcolo del costo medio totale del costo marginale abbiamo vi ho messo una tabella che potete osservare e sulla quale appunto si può riflettere proprio in relazione ai grafici che vi ho detto prima e poi c'è un esercizio con l'aiuto appunto degli strumenti matematici da risolvere